Al via e restauro della fontana di Bellerofonte, l'intervento disposto dal comune con 80.000 euro di fondi PIX. Stamane alla consegna dei lavori, presenti oltre ai tecnici di Palazzo di Città, anche la responsabile del settore artistico storico per la sovrintendenza Paola Puzza e Franco Moscariello, il restauratore a cui è stato affidato l'intervento. Moscariello in città ha già eseguito i lavori di ristrutturazione delle vasche e delle fontane in Piazza Libertà. Almeno secondo i primi accertamenti, lo stato di salute del monumento di Corso Umberto non sarebbe preoccupante, ma è il degrado in cui è stata abbandonata. In questi anni la fontana ha lasciato il segno. L'ultimo intervento di manutenzione, infatti, risale al maggio del 2007. L'intento di comune e sovrintendenza sarà quello di assicurare una doverosa continuità all'azione di tutela mirata a proteggere e salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale del capoluogo. A iniziare dalla fontana di Bellerofonte, comunemente nota come dei tre cannuoli, un'opera in stile barocco realizzata dallo scultore Cosimo Fanzago su commissione di Francesco Marino Caracciolo e risalente alla seconda metà del XVII secolo. La fontana, salvo imprevisti, sarà riportata a suo splendore all'inizio del nuovo anno. Sarà restaurato anche il dipinto della Madonnina custodita nella teca alle spalle del monumento.